Musica Uccisi qualche ora prima del ritrovamento, duplice omicidio ieri sera incontrata a Gianmellona Castrovilleri. Le vittime sono Maurizio Scorsa, 57enne di Cassano, già sfuggito ad un agguato in passato. E' la sua compagna, quarantenne di origini tunisine, ma residente a Villapiana. Centrodestra a Catanzaro si vergogna dei propri dirigenti politici. Dure le considerazioni espresse dal segretario regionale del PD sulle elezioni amministrative della città-campoluogo di regione. Nostro obiettivo, dice Irto, è costruire un campo largo. 20 comuni assieme per costruire una rete. Presentata questa mattina alla mezza terme, l'iniziativa accomunando. Obiettivo, mettere insieme gli enti locali su temi decisivi per la qualità della vita, sanità, cultura, difesa del mare e dell'ambiente. I temi più importanti. Stazione marittima contro inquinamento ed erosione costiera. L'Università della Calabria mette a disposizione del territorio le proprie competenze scientifiche in materia ambientale. Attivata la stazione sperimentale Marina di Capotirone, sul Martireno, a nord della Calabria. Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro Tg. Come sempre un saluto dalla nostra redazione. Lo avete sentito dal sommario, ampia pagina che dedichiamo alla cronaca. Non potrebbe essere altrimenti alla luce di quello che è avvenuto nelle ultime ore proprio nella nostra regione. A cominciare dalla zona isolata di Castrovilleri, in particolare in Contrada Giammellona, dove è stato trovato nella tarda serata di ieri il corpo senza vita di un uomo, Maurizio Scorza, 57enne di Cassano, trovato nel portabagagli della sua Mercedes, mentre quello della donna che era con lui era sul sedile, lato passeggero della vettura. Scorza, già noto, tra l'altro le forze dell'ordine aveva già subito un attentato nel 2013, ma adesso i sicari hanno lasciato quello che a tutti gli effetti sembra un messaggio inquietante, di chiaro stampo andranghetistico, un capretto accanto al corpo senza vita. Due persone, Maurizio Scorza, di 57 anni, di Cassano a Loione, una donna di origini marocchine, residente a Villapiana, sono state uccise ieri sera con colpi d'arma da fuoco nelle campagne di Castrovilleri, in provincia di Cosenza. I cadaveri erano all'interno di un'automobile incontrata già a Mellona, in una zona isolata, il corpo dell'uomo invece era nel vano portabagagli della vettura. Il reparto operativo del comando provinciale di Cosenza e della compagnia di Castrovilleri stanno lavorando per ricostruire il delitto. Le vittime sarebbero state uccise qualche ora prima il ritrovamento dei cadaveri sui loro corpi. Sono stati rilevati invece numerosi fori provocati dai colpi di arma da fuoco con cui sono stati uccisi. Scorza aveva già subito un attentato nel 2013 ed era già noto alle forze dell'ordine per via di alcuni precedenti per droga, mentre la donna era la sua compagna. Il movente dell'uccisione è ancora tutto da accertare. L'ipotesi che viene tenuta in maggiore considerazione è quella di una vendetta maturata negli ambienti della criminalità. L'omicidio, il duplice omicidio di ieri sera si unisce a quello che è un altro gravissimo fatto di sangue avvenuto poche ore prima nelle campagne di Calanna, nel Regino, con un altro omicidio. Noi abbiamo sentito il sindaco Domenico Romeo che ha espresso proprio alla nostra redazione, al Corriere della Calabria, la propria preoccupazione ma anche la fiducia nello Stato. Alla mia comunità voglio lanciare il messaggio di sentirsi ancora una volta a comunità. C'eravamo stretti un anno fa intorno alla famiglia colpita da quel drammatico evento e oggi ancora una volta dobbiamo dimostrare appunto che le piccole comunità sanno trovare anche in questi momenti così difficili, in questi momenti con iniziale sbandamento, con iniziale scomento, la forza di ritrovare con lo spirito di coesione, di unione, che ti fa sentire appunto tutti in un certo senso protetti dall'essere residenti e presenti in un piccolo comune. La mia volontà è quello di esprimere veramente grande fiducia rispetto a quello che può essere l'operato delle forze dell'ordine, anche in questo caso, assolutamente. Ancora con la cronaca perché ci sono importanti novità. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Salerno ha infatti chiesto cinque anni di reclusione nei confronti di Marco Petrini, l'ex giudice della Corte d'Appello di Catanzaro, già condannato a quattro anni e quattro mesi in primo grado, corrito abbreviato. L'accusa, contestata a Petrini, anche un capo di imputazione per il quale era stato assolto in primo grado, davvero un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari che contempla gli illeciti commessi da Petrini a favore dell'avvocato Marzia Tassone, con la quale l'imputato aveva intrattenuto e intratteneva una relazione intima. Per il resto l'accusa ha chiesto la conferma della condanna a tre anni e due mesi nei confronti del medico faccendiere e collettore di proposte corruttive, Emilio Santoro, detto Mario, e la conferma della sentenza di un anno e otto mesi nei confronti dell'avvocato Francesco Saraco. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo adesso di politica con la conferenza stampa organizzata proprio oggi alla mezzia termine, la sede regionale del Partito Democratico, per illustrare la proposta di legge che istituisce la figura dello psicologo di base. Sentiamo di cosa si tratta. La proposta di legge, se approvata, porterebbe la Regione Calabria ad essere tra le prime in Italia nell'introduzione della figura dello psicologo di base. La norma, il cui testo è stato condiviso dall'intero gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, è stata presentata stamani alla mezzia terme ed è il frutto, questa la sottolineatura, di un'efficace campagna di ascolto e coinvolgimento. Allora, noi siamo giunti a questa proposta di legge, credo che questo sia molto interessante, all'interno di un confronto che si è svolto nelle agorademocratiche. Depositiamo ieri questa proposta di legge che mira a creare un elenco di psicologi di base convenzionati, chiaramente sotto la guida delle aziende sanitarie provinciali, psicologi di base che possono essere consultati direttamente dal medico di base, dagli specialisti ambulatoriali, per poter intervenire tempestivamente in quelle situazioni nelle quali è richiesto il supporto psicologico. Allora, io credo che in Calabria abbia un significato particolare, proprio perché partiamo da una situazione complessa come quella del commissariamento. Quindi ci troviamo invece in un momento di svolta in cui effettivamente abbiamo, come si diceva prima, gli strumenti per andare avanti e per portare avanti una nuova visione di salute. Una salute che va oltre quella che abbiamo classicamente conosciuto, ma che appunto risponde a delle esigenze che prima erano messe da parte, come quelle della salute mentale. Ed è in questa circostanza, ovviamente tra le mura della sede regionale del PD, che il segretario regionale Nicola Irto non si è sottratto alle domande che riguardano le prossime elezioni amministrative a Catanzaro. Dure le considerazioni in particolare di Irto sul centrodestra, che secondo lui a Catanzaro è letteralmente esploso. Il centrodestra in questo momento a Catanzaro è tecnicamente esploso e la parte che non è esplosa, cioè la Lega Nord e Forza Italia, non hanno avuto la forza, il coraggio e la capacità di trovare un loro candidato. Financolo l'ho riscritto, Financolo l'ho elettore, quindi sono andate a trovare una personalità che era iscritta al Partito Democratico che è il professore Donato facendo una gigantesca operazione di trasformismo. Il campo del centrosinistra è quello chiaro, è un centrosinistra largo, è un centrosinistra evidente, è un centrosinistra che vede il Partito Democratico perno di quella coalizione con un progetto chiaro, non solo nella trasparenza dell'offerta politica in termini delle liste che saranno a sostegno di Nicola Fiorita, ma anche con una progettualità e una chiarezza di programma per il futuro di Catanzaro. Quindi la querelle riguarda il centrodestra che è esploso, ogni giorno leggiamo di scontri vari, so che il Presidente Tallini è in rottura col centrodestra e probabilmente farà e sosterrà un'altra candidatura sempre del centrodestra, quindi la notizia è che il centrodestra a Catanzaro è esploso, che il centrodestra a Catanzaro si vergogna di mettere un proprio dirigente politico. Restiamo a Catanzaro, dove questa mattina si è aggiunto di fatto ufficialmente un nuovo candidato a sindaco, si tratta di Francesco Di Lieto. Non è una scelta, come dire, di principio. Il PD è il partito che ha affossato il modello Riace, che ha esportato il nome della Calabria in tutto il mondo. Il partito di Minniti, che adesso, se non sbaglio, vende armi, è il partito che ha reso stabile la precarietà. Il partito che ha abolito l'articolo 18, il partito che adesso è a favore della guerra. La domanda forse andrebbe posta a chi invocava Gino Strada, per esempio il commissario della Sanità calabrese, e oggi lo tradisce per una scelta di convenienza. Noi restiamo lì fermi, siamo contro la guerra, siamo per il rispetto della Costituzione. Noi siamo alternativi a questa finta contrapposizione. Per cui non ritengo si possa andare al ballottaggio. Laddove si dovesse andare al ballottaggio, e noi non dovessimo essere... Non è un fatto che dipende da voi, dipende da voi. Cioè voi dovete scegliere eventualmente. Non sceglieremo. Non scegliamo nessuno perché, onestamente, stiamo parlando di due facce della stessa medaglia. Due facce seppur rispettabili, ma della stessa medaglia. Avete mai visto un consiglio comunale che migra? Sembra una canzone di giovanotti. Una tribù che balla, una tribù che migra. Sembrano le vacche di fanfani. Si vergognano loro stessi di quello che hanno combinato e ammainono simboli e bandiere. A me non risulta, francamente, che De Magistris si sia entrato nel campo largo. Laddove questo fosse vero, mi dispiacerebbe, però la domanda andrebbe posta a lui. Noi proseguiamo con coerenza, ritenendo che i principi non siano vagoni ferroviari, dove si sale e si scenda proprio per il piacimento. Parliamo ancora di comuni, però parliamo del comune di Lamezzeterme, che insieme ad altri, poco più di 20 amministrazioni comunali del territorio lametino, ha presentato questa mattina il progetto accomunando. L'obiettivo è quello di mettere in rete questi comuni per diversi progetti, a cominciare dalla cultura, dal turismo, dalla valorizzazione del territorio, ma soprattutto per affrontare le criticità più impellenti, soprattutto la sanità e l'emergenza che riguarda, da qualche settimana, il 118. Sentiamo. Unire le forze, le idee e indirizzarle verso una visione comune condivisa, tanto più dopo gli ultimi due anni di pandemia da Covid-19 che hanno segnato e lacerato comuni e territori e da questi spunti che nasce Accomunando, iniziativa ideata dal comune di Lamezzeterme, che ha visto stamane nella sala napolitano alcuni sindaci rappresentanti di quella rete di comuni, poco più di una ventina con l'idea di collaborare concretamente su temi fondamentali per la vita della collettività. Ad illustrare l'ambizioso progetto è stato il presidente del Consiglio Comunale Lamettino, Giancarlo Nicotera. Creare un osmosi fra i territori. Ovviamente va dalla tutela del territorio. Penso alla sanità, penso ad argomenti importantissimi sulla sanità che possono essere i nosocomi che sono sul territorio, ma anche le ex guardie mediche, ma anche il 118, un problema gravissimo che in questo momento è annoso per tutti i territori. Penso ancora a quelle che possono essere invece le promozioni del territorio e diventa importante delle convenzioni fra le polizie locali. Oggi la polizia locale di Lamezzeterme non può arrivare, per esempio, a Gizzeria. Penso all'iniziativa culturale con i vacantusi, cioè il teatro che accomuna. Penso per quello che riguarda i comuni del litorale anche al discorso di fare finalmente quella cosiddetta calabriabile, cioè le passerelle per le persone anziane, per i diversamente abili per il mare. Sanità e cultura i temi più importanti, tanto quanto i tempi per la realizzazione di progetti comuni. Abbiamo qui una stanza del comune che verrà solo per loro, quindi loro si sentiranno, ecco, chiunque viene dai comuni limitrofi non deve più sentirsi ospite alla mezzia, ma i tempi possono essere per alcune cose immediati. Su un servizio di emergenza che non è più, non può essere un semplice trasporto. Noi sappiamo benissimo che ormai il 118 è un sistema di soccorso, non è un trasporto. Oggi spesso, quando non ci sono i medici, diventano un semplice sistema di trasporto e questo non va bene. Quindi i tempi per alcune cose sono tempi ovviamente un po' più progettuali, per altri sono assolutamente immediati e concreti. L'Università della Calabria invece mette a disposizione del territorio le proprie competenze scientifiche in materia ambientale e lo fa con l'attivazione di una stazione sperimentale marina di Capo Tirone sul mar Tirreno a nord del Calabria, in particolare a Belvedere. Sentiamo di cosa si tratta. Mancano poche settimane all'inizio della stagione estiva. L'Università della Calabria mette a disposizione del territorio le proprie competenze scientifiche in materia ambientale e lo fa con l'attivazione di una stazione sperimentale marina di Capo Tirone sul mar Tirreno a Belvedere, a nord della Calabria. Si tratta di un hub di ricerca del Laboratorio di Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche, il cui responsabile scientifico è il professore Mario Maiolo del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Unical. Non solo dal punto di vista dell'erosione capire l'evoluzione e la dinamica e quindi far svolgere anche degli interventi dinamici che tendono a rinaturalizzare il territorio, alle condizioni date, quindi è un territorio che ha subito un'antropizzazione. Non è che possiamo distruggere le case, dobbiamo cercare di ricostruire l'ambiente diciamo preesistente prima dell'antropizzazione. L'altro aspetto importante è l'inquinamento. Studiamo anche le dinamiche dell'inquinamento, cioè di come questi inquinamenti si spostano lungo la costa, dalle origini dei punti di inquinamento e come si muove. Questo per comprendere la compatibilità delle diverse attività con l'inquinamento. Sull'inquinamento marino, Maiolo non ha dubbi, la colpa non è solo e unicamente dei depuratori. Lo scarico degli autospurgo e dei corsi d'acqua è una fonte di inquinamento, quindi come si fa a contrastare queste cose? Oppure la manutenzione dei corsi d'acqua ai fini ambientali. La stazione marittima di Belvedere sarà dotata della strumentazione necessaria a sviluppare, modelli di monitoraggio continuo. Noi ci stiamo dotando anche di strumentazioni tali da poter offrire dei modelli di monitoraggio anche in continuo, nel senso che abbiamo già realizzato dei droni subacuici, dei droni che sono dotati di sonde multiparametriche che appunto hanno una loro navigazione autonoma e possono rilevarci i dati a distanza da profondità da millimetri a muoversi in tutte le direzioni e acquisiamo dati a distanza. Sull'altro versante costiero invece accariati con il progetto di sensibilizzazione ambientale e tutela della biodiversità. È stato promosso dall'Unical, da NoiFlag, dal CIRSPE e da Euroacque. Prevede il ripristino della biodiversità, ripristino e tutela della biodiversità e quindi abbiamo oggi voluto insieme alle scuole, insieme ai pescatori, far vivere a loro lo stato dei nostri mari e delle nostre coste. Perché si parte da qui. Cioè è importante che i bambini si rendano conto di cosa significa tutelare la biodiversità. È importante conoscere i danni che questo scempio arreca appunto alle specie ittiche, al mare in generale e quindi oggi questo testimonia l'importanza di questo progetto. Abbiamo trovato di tutto ovviamente. Plastica, vetro, rifiuti di ogni genere, mascherine, bottiglie di lattine, bottiglie di vetro, tantissime cassette di polistirolo e questo è un altro tema che affronteremo. Stiamo cercando come flag di fare qualche cosa per cercare di eliminarle o comunque di riciclarle. In chiusura del nostro TG, oggi c'è spazio anche per il cinema, perché ci sarà tanta Calabria il 3 maggio prossimo a Cinecittà per la consegna dei David di Donatello, quelli che sono di fatto i premi, e di fatto è il premio più prestigioso del cinema italiano. Amore, non correre! Non ti preoccupava! Già nella cinquina dei candidati all'Oscar per il miglior film internazionale, il film di Paolo Sorrentino è stata la mano di Dio Guida con 16 candidature, le nomination ai David di Donatello a pari merito con Frex Out di Gabriele Mainetti. La candidatura della pellicola è il primo indizio, ci sarà tanta Calabria tra le candidature di quest'anno. Il film nello specifico è stato realizzato con il contributo della Calabria Film Commission ed è stato girato proprio tra il Lazio e la Regione, soprattutto nella Silla Cosentina. Frex Out concorre per miglior regia, miglior film, sceneggiatura originale, produttore, attrice, attore non protagonista e ancora miglior fotografia, miglior compositore, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, suono ed effetti visivi. Tanta soddisfazione anche per A Chiara di Jonas Carpignano, il film del regista italo-americano concorrerà in sei categorie. Anche questo realizzato con il contributo della Calabria Film Commission, così come Una Femmina, primo lungometraggio di Francesco Costabile che di candidatura ai David ne prende due, una alla migliore regia e l'altra per la migliore sceneggiatura non originale. Grande sconfitto di questa edizione Nanni Moretti che con i suoi tre piani ottiene una sola candidatura, quella per la sceneggiatura non originale. Bene, con il cinema e con il tanto cinema calabrese che ci sarà a Cinecittà, si conclude l'edizione di questa sera del nostro OTG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, le prossime edizioni nel corso della serata e vi invito soprattutto a seguire la programmazione dell'altro Corriere TV. Una buona serata. Grazie a tutti i prossimi appuntamenti,